Turno infrasettimanale per il campionato di Serie 2 di basket. La Tezenis in campo a Mantua. Coach, bisogna aspettarsi una reazione da parte della formazione di casa? Ci aspettiamo una reazione sicura e certa, da un punto di vista agonistico citando i loro virgolettati furente. E questo ci deve dare l'idea di che partita ci aspetta e saperlo per essere pronti a giocarla. Non dobbiamo piangere su alcuni contatti, dobbiamo aspettarceli, dobbiamo essere a questo punto consapevoli, più duri noi a portare un blocco, a resistere su delle situazioni e poi cercare di convogliare il tutto poi da un punto di vista tecnico-tattico con idee chiare senza farci condizionare da episodi o contatti che non devono inquinarci. Da un punto di vista tattico che partita stai preparando? Che partita ti aspetti? La preparazione della strategia è figlia soprattutto anche degli avversari. Sapere riconoscere che hanno esterni come Moraschini e Vencato che possono andare in post basso, che hanno un lungo estremamente atipico come Candussi che è il loro miglior tiratore da tre punti, un giocatore eclettico di grande dinamismo come Bobby Jones, Cucci che è un giocatore per loro importantissimo perché dà una doppia dimensione e soprattutto nelle partite vinte dà un apporto statistico di altissima qualità, Legion che è appena arrivato, che ha un talento fuori dall'ordinario per quanto riguarda il nostro campionato, che ha quel talento capace di decidere una partita da solo se è infuocato. Dobbiamo essere attenti a contenere le loro situazioni principali, dobbiamo essere attenti a contenere il loro post basso con gli esterni, il loro pick and pop con Candussi, dobbiamo essere molto attenti con la capacità, giocando così ravvicinato, di aver resettato la partita di Montegranaro e di essere pronti a giocare una partita completamente differente, portandoci nel viaggio verso Mantua la fiducia e l'autostima che la partita di Montegranaro ci ha regalato, ma solo quella perché poi sarà un'altra palla a due.